Salve ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del Tg Blu. Presunte corruzioni nella Commissione Tributaria Regionale e Provinciale di Foggia. È l'ipotesi investigativa sulla quale sta lavorando la Guardia di Finanza che oggi ha indagato otto persone. I finanziari del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, con la collaborazione delle Fiamme Giale e della Procura di Foggia, hanno eseguito alcune perquisizioni negli uffici della sezione staccata di Foggia e della Commissione Tributaria Regionale e della Commissione Tributaria Provinciale e nelle abitazioni di otto indagati. Quattro funzionari dipendenti della Commissione Regionale e della Commissione Provinciale, un ex funzionario della Commissione Regionale, due commercialisti e un pensionato dell'Agenzia delle Entrate, ritenuti gli ultimi tre intermediari tra i contribuenti che presentano i ricorsi tributari e il personale degli organi giudicanti. Le perquisizioni sono state disposte alla Procura della Repubblica di Foggia nell'ambito di un'indagine diretta ad accertare l'eventuale pagamento di tangenti al fine di ottenere sentenze favorevoli dalla giustizia tributaria, nonché verificare come avvenga la reale formazione delle decisioni. Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria è stata sequestrata numerosissima documentazione di estremo interesse investigativo, supporti informatici, personal computer e cellulari, oltre alcune migliaia di euro in contanti trovate in casa degli indagati. Sono inoltre state sequestrate numerose marche da bollo recuperate da atti pubblici della Commissione, riciclate dai funzionari e dipendenti agli indagati, nonché dieci reperti archeologici di pregevole fattura di presumibile civiltà dauna del VI-IV secolo a.C. Nel corso di ulteriori acquisizioni sono stati prelevati anche moltissimi fascicoli processuali, possibile oggetto di attività corruttiva ipotizzata. L'attività investigativa svolta dai finanziari di Bari, che vedo i coinvolti altri numerosi indagati, è ancora in corso per comprendere la reale estensione del fenomeno corruttivo ipotizzato, nonché il coinvolgimento di altri soggetti. E' stato ufficializzato questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia la nascita del ROS, il raggruppamento operativo speciale dell'arma. Tra i compiti del ROS, la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. E' stato presentato ufficialmente questa mattina a Foggia il nucleo anticrimine del ROS, il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri di recente istituzione. All'incontro sono presenti tra gli altri il prefetto di Foggia Maria Tironi, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia Leone dei Castris, il procuratore capo di Bari Giuseppe Volpe, il comandante del raggruppamento operativo speciale dei carabinieri Giuseppe Governale e il comandante della Legione Carabinieri Puglia Giovanni Cataldo. 15 gli uomini che faranno parte della nuova unità che sarà completata a fine mese. Tra i compiti del ROS, il contrasto della criminalità avversiva e terroristica e sequestre di persona a scopo di estorsione. È un segnale di sostanza, è un segnale simbolico. Prima di tutto sta a significare che la provincia di Foggia non è abbandonata a se stessa, che lo Stato non deflette, sa leggere le esigenze del territorio. Riteniamo che possa essere un valore aggiunto rispetto allo schieramento dei dispositivi delle forze di polizia presenti sul territorio, un valore aggiunto che potrà dare dei risultati anche tangibili. Il ROS affoggia è la risposta dello Stato alla richiesta di sicurezza che giunge dal territorio. Lo ha detto ai microfoni di Terebru il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti presentando il nuovo nucleo dei carabinieri istituito appunto nel capologo Dauno. Dottore, la sezione del ROS affoggio qui a lei ha detto è stata una risposta dello Stato alle tante richieste che giungono dalla popolazione. Sì, è stata una risposta tempestiva e credo che una punta di eccellenza investigativa in questo territorio martoriato dalla criminalità organizzata possa veramente determinare un salto di qualità delle indagini che sarebbe molto importante. È richiesto anche dalla cittadinanza che vuole avere fiducia e credo che questi segnali, un segnale come questo possa determinare fiducia dei cittadini verso le istituzioni e verso lo Stato con un ciclo virtuoso che si può instaurare tra Stato e cittadini. Come diceva Falcone, non possiamo pretendere l'eroismo dei inermi cittadini, però dobbiamo essere noi, uomini e donne delle istituzioni, a guadagnarci la fiducia dei cittadini e questo è un momento in cui lo Stato fa di tutto per guadagnare la fiducia dei cittadini. C'è una zona particolare che vi preoccupa? Assolutamente la zona garganica, oltre che la zona foggiana, sappiamo che c'è una strutturata organizzazione criminale, la società foggiana, contro la quale c'è il grande impegno di tutte le forze dell'ordine e della magistratura inquirente. Non sempre i risultati, i riscontri processuali sono soddisfacenti, ma naturalmente questo fa parte della dialettica e nel rispetto dei ruoli la procura di istituzione di Bari, ma anche la procura di Foggia fanno il loro lavoro con grande professionalità e quindi credo che poi alla fin fine i risultati verranno. Oltre che la criminalità bisogna combattere il muro di omertà? Sì, ma proprio per questo, per battere il muro di omertà bisogna conquistare la fiducia dei cittadini, bisogna far capire ai cittadini che è più importante e più conveniente stare con lo Stato che stare con la criminalità organizzata. Questo però bisogna dimostrarlo. Ripeto, la costituzione di una sezione ROS qui a Foggia è un segnale importante in questo senso. Io credo che sarà accolto dai cittadini. La battaglia tra il comune di Ascoli e la Ecofuel fa segnare un punto in favore dell'amministrazione comunale. Dalla Regione Puglia infatti arriva lo stop alla realizzazione dell'impianto di trasformazione della plastica in carburante. La Regione Puglia dice no, almeno al momento, alla realizzazione dell'impianto di trasformazione della plastica in Cherosene che la Ecofuel vorrebbe realizzare nell'area industriale di Ascoli-Satriano, a poche centinaia di metri dal sito della Villa Romana di Faragola. Una decisione presa dopo il dettagliato lavoro di valutazione da parte del Comitato Via regionale e di una profondità istruttoria delle strutture tecniche dell'assessorato. Ad annunciarlo l'assessore alla qualità dell'ambiente della Regione Puglia, Mimmo Sant'Orsola. Rimangono non superate alcune questioni di grande rilevanza sull'impatto ambientale, dice Sant'Orsola, tra cui l'indeterminatezza del quadro emissivo associato al processo di produzione di combustibili, dalla polimerizzazione della plastica, il carattere sperimentale dell'impianto che non permette di studiare la fattibilità del progetto sulla base di dati storici relativi ad altri impianti similari e infine la parte relativa ai rischi connessi al trattamento dei liquidi infiammabili, in particolari condizioni di pressione e temperatura. Sulla base di questi elementi di natura tecnica, il Comitato Via e le strutture tecniche dell'assessorato hanno stabilito l'assenza di compatibilità con il territorio del progetto. La battaglia tra il Comune di Ascoli e la Ecofuel segna un punto a favore dell'amministrazione da sempre convinta che l'impianto non possa nascere su un territorio a vocazione agricola a causa della potenziale dannosità dei processi chimici per il trattamento della plastica. Continuano gli incontri e le manifestazioni che vedono la Puglia protagonista alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano. Ieri nel corso di un incontro l'assessore regionale all'agricoltura Leonardo Di Gioia ha sottolineato ancora una volta lo stretto legame tra agricoltura e turismo. La Puglia ha destinato circa 160 milioni di euro anche alle aggregazioni tra soggetti pubblici e privati per presentare tramite i fondi agricoli progetti dedicati all'accoglienza dall'agriturismo al bed and breakfast. Lo ha annunciato l'assessore regionale dell'agricoltura Leonardo Di Gioia durante la seconda giornata della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano. Nel corso dell'incontro l'assessore ha ribadito che turismo e agricoltura devono andare di pari passo. Gli agricoltori, ha detto, sono oggi i primi manutentori del paesaggio, la presenza dell'uomo e le buone pratiche agricole sono un grande fattore di contrasto al dissesto idrogeologico. L'agricoltura a pieno titolo interviene in una fiera, in una borsa legata al turismo, lo fa sapendo che un pezzo importante della nostra ospitalità è praticato dagli agricoltori e da quelle imprese agricole che hanno saputo fare salto di qualità e trasformarsi in imprese che sanno anche accogliere ed ospitare. Lo si fa con la consapevolezza che la Puglia va venduta, in termine nobile questo, non in un'accezione negativa, 365 giorni all'anno, non solo per il mare, non soltanto per il paesaggio bellissimo, ma anche per la ospitalità, ma anche per quelle caratteristiche che sono poi intrinseche al carattere dei pugliesi e degli agricoltori pugliesi in particolare, cioè l'ospitalità legata al cibo. Il cibo che diventa lo strumento per dire cos'è la Puglia e come vorremmo che fosse in futuro, sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale, sempre un po' più in grado di rendere partecipativa l'esperienza anche della convivialità. Credo che ci siano buone condizioni, visti anche i dati che abbiamo mostrato oggi, per poter dire che la Puglia può andare a guardare al futuro. Si chiama processo a Gesù con padre Pio Cireneo, la rappresentazione per celebrare i cento anni dell'arrivo di padre Pio a San Giovanni Rotondo alla regia Michele Placido, che questa mattina l'affoggia per rappresentare l'evento. Sarà Michele Placido a portare in scena il 10 aprile alle 18 sul Sagrato di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo il processo a Gesù con padre Pio Cireneo, contesti del poeta Mario Luzzi, che rientra nelle manifestazioni al ricordo del centenario dell'arrivo di padre Pio a San Giovanni Rotondo. L'attore e regista a Foggia per la presentazione dell'evento si dice legato personalmente e professionalmente alla figura del frate con le stigmate. Sarà una vera e propria rappresentazione teatrale, aiutato come sarò dai miei fratelli, che sono attori Donato, Gerardo, Paolo Gattini. Sarà una cosa molto impegnativa il testo è il testo di Mario Luzzi, grande poeta italiano. Questa rappresentazione è già stata fatta davanti a Papa Voitila. Questa rappresentazione che si potrebbe definire scandalosa, fra virgolette, perché è Cristo che parla col padre. Questa è una grande sfida. Io sono già legato alla figura di padre Pio, ho fatto un film, per cui adesso uniamo padre Pio, Cireneo, come giustamente vogliono i cappuccini. Padre Pio Cireneo è la figura del Cristo e lascia grandi esperienze, perché stiamo parlando di trascendenza, stiamo parlando di misticismo, stiamo parlando del bisogno che all'uomo di dialogare guardando con lo sguardo in alto, non con lo sguardo in basso. Perché se guardiamo in basso vediamo che veramente le cose non funzionano. Se guardiamo in alto possiamo chiedere ma perché non funzionano le cose in basso. Oggi la Chiesa Cattolica è un punto di riferimento importante per gli uomini e per chi crede, proprio perché c'è delusione guardando in basso. Questa era l'ultima notizia, a me non resta che ringraziarvi per essere stati con noi e lasciarvi all'altra campana. Alessandra, benvenuto, Dialogue Rai in studio oggi con Silvana Sinigaglia, avvocato matrimonialista e presidente della Commissione Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Buon proseguimento. Grazie a tutti.